Ray-Ban, Armani, Barberi, Bulgari, Chanel, Dolce & Gabbana, Prada, Valentino e Versace. Tutti questi grandi marchi hanno in comune una cosa, oltre allo stile e alla qualità, il rapporto con l'azienda di ottica italiana Luxottica, la protagonista della puntata di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del Teacher Stefano Show, con la nostra nuova serie Grandi Aziende Italiane, in cui parleremo di alcune aziende italiane che hanno avuto molto successo in Italia e all'estero e che sicuramente tutti conoscono. Ti ricordo che questa puntata è anche video, quindi puoi ascoltarla sulla tua piattaforma di podcast preferita, ma anche guardarla su YouTube. Come sempre però puoi scaricare la trascrizione parola per parola di questo episodio, con la spiegazione di alcune parole ed espressioni più difficili. Basta cliccare nel link in descrizione o puoi visitare il mio sito www.teacherstefano.com. slash podcast. Adesso iniziamo con la puntata di oggi e parliamo di Luxottica. Luxottica è stata fondata nel 1961 ad Agordo, un piccolo paese del Veneto in Italia, da Leonardo del Vecchio, all'epoca un giovane artigiano di 25 anni, che aveva iniziato a lavorare come operaio in una fabbrica di componenti per occhiali. Del Vecchio aveva un'idea innovativa per l'epoca, produrre occhiali da vista e da sole completi, utilizzando tecnologie avanzate e vendendoli direttamente ai negozi di ottica. Inizialmente la sua azienda, l'appena nata Luxottica, che aveva solo sette dipendenti, produceva solo alcune componenti. Ma del Vecchio era determinato a fare di Luxottica un'azienda leader nel settore. Negli anni 60 ha iniziato a specializzarsi sulla produzione di occhiali da sole, un prodotto relativamente nuovo in quegli anni, che iniziava a diventare sempre più popolare tra i consumatori. Luxottica acquisisce alcune piccole aziende per integrare la sua catena di produzione e migliorare la qualità dei suoi prodotti. Nel 1971 lancia il suo primo marchio di occhiali da sole, Vogue. In questo stesso anno, alla Mostra Internazionale dell'Ottica di Milano, viene presentata la prima collezione di Luxottica. Questa è un grande successo e ha fatto guadagnare alla giovane azienda notorietà e fama. Nel 1974 Leonardo del Vecchio dà inizio a quella che nel giro di pochi anni diventa una lista immensa di partner e soci. La prima azienda a collaborare con Luxottica è il distributore Scarrone Spa, che vantava già una solida presenza sul mercato italiano. Negli anni successivi l'espansione riguarda soprattutto in Italia, ma ben presto il mercato comincia a diventare internazionale. Luxottica approda in Germania nel 1981, mercato leader nella produzione di occhiali, dove acquisisce diversi distributori indipendenti. Questo avrebbe segnato l'inizio del rapido sviluppo dell'azienda anche negli Stati Uniti. Da qui in poi è un escalation di successo, che porta Luxottica a diventare sempre più popolare e di conseguenza a espandere ancora di più la sua portata. In particolare, alla fine degli anni Ottanta, Leonardo del Vecchio intuisce il potenziale degli occhiali, non solo come strumento per correggere la vista, ma come vero e proprio accessorio di moda. Il primo stilista con cui Luxottica ha collaborato è stato Giorgio Armani. Segue nel 1990 l'azienda statunitense Vogue Eyewear, grazie alla quale Del Vecchio rafforza la sua presenza nel settore della moda. Nel 1991 Leonardo del Vecchio fonda il Museo dell'Ottica per celebrare la storia e la cultura dell'ottica e della produzione di occhiali in Italia. La collezione include oltre 5.000 oggetti, tra cui occhiali da sole e da vista, antichi e moderni, lenti, microscopi, telescopi, macchine per la produzione di occhiali e molti altri oggetti interessanti. Dal 1997 Luxottica acquista o ingloba marchi di livello internazionale come Bulgari, Arnett, Killer Loop o la francese Chanel. Arriverà anche in Australia, acquistando per 2,1 miliardi di dollari il marchio Oakley. Insomma, Luxottica conquista il mondo. Risale al 1999 l'acquisto dell'iconico brand Ray-Ban, ancora oggi uno dei più amati al mondo nel settore occhiali da sole. Nel 2014 Luxottica si fa spazio nei negozi online, acquisendo il controllo di Glasses.com, una piattaforma americana per la vendita di occhiali online. Inizierà anche una collaborazione con Intel allo scopo di sviluppare tecnologie indossabili in campo ottico. Il primo risultato della collaborazione tra Luxottica e Intel è lo smart eyewear di marca Oakley, in grado di offrire ai suoi utenti un sistema di allenamento personalizzato. Ma quella di Luxottica non è una storia che riguarda solo business ed espansione sul mercato globale. Quello che non tutti sanno, infatti, è che Luxottica ha sempre dimostrato un grande interesse per le questioni sociali. L'azienda ha adottato una politica di sostenibilità ambientale e sociale che si basa su quattro pilastri fondamentali prodotto, ambiente, persone e comunità. Per quanto riguarda il prodotto, Luxottica si impegna a realizzare occhiali di alta qualità e a garantire la sicurezza dei suoi clienti. Utilizza materiali ecologici e cerca di ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti durante il loro ciclo di vita. In merito all'ambiente, Luxottica si impegna a ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili, la riduzione del consumo di acqua e di energia e la riduzione delle emissioni di gas serra. Luxottica è stata anche una delle prime aziende a firmare il Patto per lo sviluppo sostenibile, un'iniziativa promossa dal governo italiano per favorire lo sviluppo sostenibile delle imprese. Per i suoi dipendenti, Luxottica si impegna a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato, dove tutti sono trattati con rispetto e dignità. L'azienda offre loro anche programmi di formazione e sviluppo, al fine di favorire la loro crescita professionale. Per quanto riguarda il pilastro della comunità, a Luxottica va il merito di aver fondato nel 1988 OneSite. OneSite è un'organizzazione no profit indipendente che collabora con organizzazioni sanitarie locali, governi, scuole, altre aziende, medici e volontari e che ha come obiettivo quello di fornire accesso a cure oculistiche e occhiali di qualità nelle aree più povere e svantaggiate del mondo. Offre a chi non ha le risorse per accedervi visite oculistiche e occhiali gratuiti. Le visite avvengono in cliniche temporanee o su furgoni mobili adeguatamente adibiti allo scopo. In qualità di sponsor e fondatore, Luxottica fornisce, oltre ai finanziamenti per le iniziative, anche strutture e personale medico e operativo. Sostiene inoltre programmi di volontariato che coinvolgono i suoi dipendenti. Ed ecco adesso alcune curiosità che forse non sapevi su Luxottica. Il nome deriva dall'unione della parola latina lux che significa luce e ottica. Nel 2012 è stata la prima azienda italiana nel campo della moda per fatturato. Luxottica è presente in più di 150 paesi e in 5 continenti, con circa 9200 negozi. Si trova in Nord America, in Australia e in Nuova Zelanda, a Singapore, in America Latina, in Italia e in molti altri stati. Benissimo, abbiamo finito con la puntata di oggi. Che ne pensi? Ti è piaciuta? Fammelo sapere qui sotto nei commenti se ci stai guardando su YouTube o mandami un messaggio su Instagram a Teacher Stefano se ci stai ascoltando. Ti ricordo anche che se hai perso la puntata precedente di grandi aziende italiane puoi guardarla su YouTube o ascoltarla sulla tua piattaforma preferita. Ho parlato della Ferrari, la famosissima azienda automobilistica. E quale dovrebbe essere la prossima azienda? Fammelo sapere! E non dimenticare di scaricare la trascrizione di questo episodio con anche la spiegazione di alcune parole utili cliccando sul link nella descrizione o visitando il mio sito www.teacherstefano.com slash podcast Noi ci sentiamo presto! Ciao!